Benvenuti al nostro consueto appuntamento con il meteo. Nel corso della giornata di martedì, ad iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, seguirà un progressivo aumento della nuvolosità un po' su tutta la nostra regione, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature resteranno pressoché stazionali, i venti saranno deboli sud-occidentali ed il mare poco mosso. Per ora questo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.